Il Ministro federale della ricerca della Germania, Giovanna Banca, ha inaugurato a Torino la mostra itinerante internazionale Ocean Plastics Lab sul tema dei rifiuti e dell'inquinamento della plastica, ospitata fino a 7 ottobre in piazza Solferino all'interno di quattro container. A fare gli onori di casa è stato il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus. I due hanno visitato insieme la mostra accompagnata dal Commissario europeo per la ricerca, la scienza e l'innovazione, Carlos Medas. Obiettivo dell'esposizione non è solo quello di sensibilizzare la popolazione sugli effetti dell'inquinamento plastico nei mari, ma anche favorire un dialogo tra scienza e società.